Ciao, sono Cristina Toso. Fare politica non è fare l'attrice sul palcoscenico. Fare politica vuol dire studiare, vuol dire prepararsi, vuol dire conoscere i problemi e gli ambiti del proprio territorio e della propria città. È questo verso cui mi sono impegnata finora e verso cui voglio impegnarmi ancora, per essere a servizio della città che mi ha aiutato a studiare, che mi ha aiutato a formarmi una famiglia, che mi ha dato un lavoro. Oggi poter dare un servizio è un modo per ricambiare quanto investimento c'è stato verso la mia persona e verso la mia famiglia. Perciò il 25 maggio fai una croce sul simbolo del Partito Democratico e scrivi Toso Cristina. Grazie. Grazie.